Ciao, che ci fai qui, giovane pennuto? Niente. E tu invece? Niente. Passavo da qui per uno spondino. C'è da mangiare? Qui? Certo, con showala. Oh, no, 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 no. Aspettate, io no. Io sono un pinguino. Esatto. I pennuti, quelli come te, mangiano il pesce. I pennuti, quelli come me, mangiano i pennuti e il pesce. E ultimamente non c'è molto pesce in giro. E così. Prima io. E con il migliore tocco a me di te. Ehi, 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 sto cercando di rimediare un brazzo. Aspetta! Stai a vedere. Sì, molto interessante. Senti, per una volta. Sbrughiamo la faccenda in modo civile. Forza, fai il bravo. Ehi, che cos'è sulla zampa? Eh? Vuoi dire questo? No, perché gliel'hai chiesto? Chiudi il becco. E il pennuto mi ha fatto una domanda intelligente. E io ci do una risposta intelligente. Ci risiamo. Ti dico solo tre parole. Sei guesciato dagli alieni? No, dovevi proprio chiederglielo. Si legge! Ascolta, piccolino. Laggiù c'è qualcosa. Creature. Ma non come noi. Più grosse, più spietate e anche più furbe. Chiedemi perché lo so. Perché? Perché mi hanno catturato. Ecco perché. Incredibile. Come sarebbe incredibile? È vero. Me ne sto su uno scoglio a farmi i fatti miei quando all'improvviso mi sono addosso. Creatura come dei grossi e brutti pinguini. Facce grasse e flaccide con gli occhi frontali. Senza penne. Senza becco. E quelle... Quelle scele appendici. Mi tastano. Mi legano. Mi bloccano. Poi prendono un affare a puntita e me lo ficcano nella carne. E poi... Blackout. Caspita. Mi sveglio e mi regiovo con questo cosa addosso. Ogni pennuto volato la mi prende in giro. Ehi! Comuta la passa! Zabbagiale! È stato umiliante. E poi? È stato umiliante. Che altro vuoi? Potevano mangiarti. Sì? Sì. Ma le mie invocazioni di pietà hanno fatto appello ai loro estenti migliore. E anch'io potrei fare appello ai tuoi estenti migliori. Sei furbo, piccoletto. Ma no. Ma che ci fa l'atteggio belluto? Esci da lì! Esci sotto, damonè! No! Ah, fantastico! Con tutte le tue festerie sugli alieni. Vero mi sequenciarono. E quel strato è forte che abbiamo sempre credito. Figurati. Dov'andate, pecciolo? Andrò a stare zitto! Mi sequenciarono! Me ne infischio! Ma io ho fame! Sai qual è il menù di oggi? Vuoi del pesce? Non c'è pesce! Vuoi del pinguino? Non c'è pinguino!